Ogni giorno aumentiamo un po' la fisica, mettiamo più dettagli ogni giorno. Per il momento stiamo facendo un grande lavoro, sono contento della performance di tutte, siamo in buona strada. Tra l'altro c'è da dire una cosa, le ragazze sono molto contente, le ho intervistate anche perché dice che lei, mister, le ha fatte giocare col pallone. Sì, è parte della filosofia, sempre con il pallone. Purtroppo, come oggi, sono 38 gradi, abbiamo amichevoli, ciao. Però sempre mettiamo in ogni partita la nostra filosofia con il pallone. E ho visto che anche nell'amichevole che abbiamo fatto la settimana scorsa, abbiamo messo questi piccoli punti in possesso. e stiamo facendo un top lavoro lì. Tra l'altro ci sono delle dichiarazioni dell'allenatore del Sassuolo, eccetera, del genere, che dice che ha visto l'Arezzo pimpante già con degli schemi importanti, il che vuol dire che avete perso per un'autorete. Ma insomma vuol dire che già le ragazze avevano assimilato qualcosa. Sì, ma è grazie anche a Giampiero Piovani, non ho sentito che ha detto questo, però ho parlato con lui dopo la partita. Era bello di prendere anche idee di un allenatore che è molto molto importante nel calcio italiano. Abbiamo parlato dei giocatrici vari, abbiamo parlato del stile qui in Italia, del Serie B e delle squadre di Serie A. Noi abbiamo fatto una buona chiacchierata, ma sulla domanda abbiamo cominciato da questo primo amichevole la settimana scorsa di mettere questi... Ho sentito ora nelle spogliatoie... Noi abbiamo messo dalla prima partita quelli punti che parliamo ogni giorno, sono qui negli allenamenti e sono molto molto contento che anche altri allenatori possono vedere questi piccoli dettagli che mettiamo nel gioco.